Capita che le persone adottino un pitbull oppure anche un hamstaff, un American Staffordshire che è una razza riconosciuta e comunque ha caratteristiche molto simili al pitbull sono entrambi diciamo dei cani tipo bull e quindi con caratteristiche di cani da combattimento e anche se poi diciamo alcuni cani come l'American Staffordshire sono poi diciamo destinati alla compagnia ma anche molte persone che prendono un cane pitbull e lo prendono per compagnia tuttavia chi prende questi cani spesso fa un po' il fai da te ma ogni tanto c'è anche qualcuno che magari pensa che abbia bisogno di imparare anche se l'idea magari che contattano per far addestrare il cane poi quando iniziano a fare un percorso di educazione cinofila comportamentale si rendono conto che hanno bisogno loro di istruire che commettono errori sui propri cani i pitbull come gli hamstaff pur essendo cani forti sono cani molto sensibili e capita che alcuni di questi possano avere delle paure, delle insicurezze per cui è molto importante che il proprietario sia istruito, preparato, formato per comprendere l'emozione della paura, aiutare il proprio cane e aiutare se stessi quando poi vengono con i cani tipo pitbull o tipo hamstaff da cuccioli è anche molto bello vedere quanto questi cani hanno voglia di imparare di collaborare con i loro proprietari e quanto i loro proprietari siano a digiuno in termini di conoscenze di cinofilia del cane, della razza, di tanti aspetti soprattutto della comunicazione e dell'apprendimento con il cane per cui venire a fare un percorso di educazione cinofila comportamentale fa senz'altro molto bene ad entrambi Ciao, io sono Stefano, Stefano Pesci, istruttore ed educatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nel comportamento del cane nella soluzione dei problemi, nel benessere del cane nella socializzazione, emozioni, paure, abbaio segnali calmanti, stress e tante altre cose Lei è Sharon, cane insegnante, è relax insieme a me e se ti fa piacere mi puoi contattare dal mio sito internet www.istruttorecinofilo.it Ciao